Ancora un mercoledì soft sul piano epidemiologico per il territorio Peligno-Sangrino che mette a referto 15 positività, comprese 3 reinfezioni distribuite sui 6 comuni del comprensorio, 10 a Sulmona e poi una ciascuno per Pratola-Pelinia, Raiano, Roccaraso, Scontrone e Vittorito. Il capologo Peligno continua a fare pieno di nuovi casi, mettendo a referto più della metà degli oderni contagi e andando in doppia cifra. La gestione del virus resta pressoché casalinga con i cosiddetti tamponi fedatevi, sti numeri contenuti. Per questo l'attenzione resta alta esclusivamente per i pazienti fragili e strutture sensibili del territorio. Un'altra positività tra le figure amministrative si registra nella clinica che opera sul territorio, mentre un paziente della stessa è stato trasferito presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila per la somministrazione della terapia specifica. Complessivamente sono 460 gli attuali positivi sul territorio, in attesa del riallinamento dati e della comunicazione delle nuove guarigioni a fronte di 7 degenti, di cui uno in terapia intensiva.